La Regione Campania comunica che è possibile registrarsi sulla piattaforma informatica della Regione per l'adesione alla campagna di vaccinazione anti-covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età. È già disponibile il link https.soresa.it per procedere alla registrazione è necessario inserire il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria del vaccinando in caso di supporto nel processo da parte di terzi e quindi necessario che chi supporta il vaccinando disponga di tali informazioni e sia autorizzato al loro utilizzo. Al momento dell'adesione è necessario fornire un indirizzo e-mail e un recapito cellulare che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. La piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via sms. Registrata l'adesione sarà inviata una mail di conferma all'indirizzo indicato. Sarà poi cura del centro vaccinale. Procedere con la successiva convocazione.